Milano, 16 novembre 2017, svolta sulla battaglia legale tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. L'ex moglie del Cavalire, deve dire addio all'assegno di divorzio da 1,4 milioni che Berlusconi le corrisponde ogni mese. Ma non solo, Veronica dovrà anche restituire al leader di Forza Italia circa 60 milioni di euro. Lo ha deciso Corte d'Appello di Milano, che ha accolto l'istanza dell'ex premier di applicare la recente sentenza sull'assegno di divorzio della Cassazione nella causa tra l'ex ministro Vittorio Grilli, e la moglie Lisa Lovenstein. In quell'occasione, i giudici avevano stabilito, che il parametro del mantenimento del tenore di vita goduto durato il matrimonio non è più valido e che l'assegno divorzio spetta solo a chi non è in grado di lavorare, non per sua colpa, e non ha redditi. Il Cavaliere aveva sostenuto che la sua ex moglie con liquidità per 16 milioni, gioielli e società immobiliari, è autosufficiente. Per la Corte d'Appello di Milano il maxi assegno di divorzio che l'Alario riceve ogni mese non è legittimo. Il provvedimento, depositato stamattina, è immediatamente esecutivo? L'Alario può ancora impugnarlo, ricorrendo in Cassazione, mossa quasi scontata. Anche se, va sottolineato, la Suprema Corte si è recentemente espressa sull'autosufficienza proprio nella causa Grilli-Lovenstein. La sentenza di oggi si discosta invece da quanto stabilito sempre dalla Cassazione in maggio in merito a un'altra causa, ovvero quella di separazione. Anni di ricorsi, la battaglia legale tra i due, sul fronte economico, dura da tempo, dopo che la coppia è stata sposata per 27 anni. Nel 2012, l'assegno di mantenimento dopo la separazione, era stato fissato a 3 milioni di euro. Cifra poi ridotta a 2 milioni in appello, mentre il Tribunale di Monza, che si occupava invece della causa di divorzio, l'aveva già limata a 1,4 milioni. La Cassazione, in maggio, aveva confermato i 2 milioni dell'assegno di mantenimento, sostenendo che Berlusconi fosse uno degli uomini più ricchi al mondo e definendo rilevante la disparità di redditi con l'alario.